Mister, dopo le due partite senza vittoria avete comunque riguadagnato la quarta posizione, ora è importante non perdere il terreno su Playa Nume e Mawed che sono a più sette. Abbiamo un impegno difficilissimo domenico in casa della prima in classifica, naturalmente la nostra volontà è quella di provarle a vincere tutte fino alla fine, speriamo di riuscirci. Ecco domenica con Lady Mercardito, appunto la capolista, cercherete di andare a fare lì la partita oppure userete un atteggiamento più difensivo? No, cercheremo di fare la partita come l'abbiamo fatta in tutte le altre occasioni, cercheremo di imporre il nostro gioco sperando di riuscirne con un risultato positivo. Oltre a Mancusi squalificato ci sono altre assenze? Dovrebbe mancare Mazzella per il problema che ha avuto domenica al flessore, abbiamo Ferrandino che ne stiamo valutando, Ferrandino e Buono che ne stiamo valutando le condizioni perché martedì hanno riportato degli affaticamenti muscolari. Ecco si aspetta una partita molto difficile? Assolutamente sì, contro la prima in classifica, loro cercheranno di chiudere il campionato quanto prima è possibile, per cui cercheranno di non sbagliare la partita, però noi abbiamo bisogno di fare punti, quindi in un modo o in un altro dobbiamo cercare di ottenere il massimo da questa partita.